Firmato l'accordo tra l'Asda Napoli 3 Sud ed i medici di medicina generale per la seconda fase del piano di distribuzione dei vaccini. Si tratta di uno dei primi accordi a livello nazionale, il primo siglato nella regione Campania. Questa mattina abbiamo intervistato il direttore generale dell'azienda sanitaria, Gennaro Sosto. È un accordo che è teso a un coinvolgimento sia dell'istituzione comune, molte delle quali ci stanno supportando nelle individuazioni di siti presso i quali eseguire la campagna vaccinale, sia ad avere il contributo dei medici di medicina generale che presso quei siti che i comuni ci stanno dando a disposizione andranno ad eseguire la campagna vaccinale insieme all'azienda sanitaria Napoli 3 Sud. È uno dei primi accordi che si chiude su scala nazionale, è sicuramente il primo che si chiude qui in Campania. Quando riguarda il comune di Toro del Greco, oggi è stata annunciata l'offerta della struttura Santissima Trinità. Sono state individuate altre sedi nel territorio comunale? Non ancora. In questo momento l'idea è di far partire una prima sede vaccinale per ogni distretto sanitario. Quando partirà la campagna vaccinale per gli anziani? Campagna vaccinale per gli anziani, ovvero 80 già partita, stiamo già lavorando a domicilio da alcuni giorni. L'attivazione presso i siti di riferimento avverrà già da domani, dopodomani con le prime chiamate che sono già partite. Entrerà a pieno regime con la conclusione dell'attività sugli operatori sanitari a partire da domenica a lunedì. Per quanto riguarda la vaccinazione del personale, qual è la situazione e se ci può dire qual è l'impatto che ha avuto la vaccinazione, se c'è stato un reale decremento dei casi? Siamo in conclusione, ci sono alcune ultime code di categorie, alcune categorie residuali che si stanno ultimando, il grosso terminerà entro questa settimana. L'impatto al momento è più che positivo, positivissimo perché il numero di casi effettivamente sulle nostre strutture sanitarie è notevolmente calato, notevolmente ridotto. Questo è stato testimoniare dell'ottima efficacia dei vaccini. C'è stata anche una rimodulazione quanto riguarda i nosocomi dell'Asnapoli 3 Sud. Qual è stato il motivo per cui si è spinto su questa rimodulazione? L'obiettivo è cercare di efficientare il sistema al massimo, quindi quello di andare a far convergere le forze in quei nosocomi dove abbiamo la possibilità di creare più posti letto possibili. La scelta ad esempio di convergere ancora di più su Bosco Tre Case e da tempo che diciamo che avevamo un programma ambizioso di incrementare ancora di più i posti letto per area Covid è stata ultimata. In questo momento noi avremmo la capacità di attivare su Bosco Tre Case oltre 110-120 posti letto. Naturalmente per farlo ci serve forza lavoro importante. In conclusione si parla di possibile zona arancione qui in Campania. Qual è la situazione sul territorio regionale anche in considerazione della variante inglese di cui tanto si parla? Abbiamo casi in aumento. Il nostro territorio è uno di quelli che presenta una maggiore incidenza soprattutto in alcune aree geografiche. Sono stati quindi già prelevati alcuni campioni di alcuni soggetti, in alcuni casi a campioni, in alcuni casi quelli che rappresentano delle tipicità particolari di positività proprio perché vengono esaminati presso le strutture regionali di riferimento sequenziando i tamponi acquisiti al fine di capire se c'è la presenza di varianti diverse rispetto al ceppo originario del coronavirus. Grazie a tutti.